Le premesse della vigilia sono state rispettate, ma la diesel tecnica Pallacanestro Trinità ha dovuto faticare più del dovuto, soprattutto a cavallo tra secondo e terzo quarto, per venire a capo di una polisportiva Agropoli, che per quanto sia la formazione più giovane del girone A della serie D, ha messo in campo impeto e determinazione. Non lasciatevi del tutto tradire dal punteggio finale, 86-54, ci sono stati momenti in cui la formazione agropolese trascinata dal atomico, ben in casa, davvero irrefrenabile in certe situazioni, è riuscita ad essere vicino ai biancazzurri, che pure erano riusciti a chiudere il primo quarto avanti di 18 punti sul 25-7, grazie ai 10 punti, saranno 18 poi alla fine di Francesco Ambrosano, e grazie anche a una prestazione di squadra di qualità. Dopo aver assestato il vantaggio sul più 23, la diesel tecnica ha subito il ritorno degli agropolesi, che hanno cominciato a trovare buone percentuali dall'arco, anche grazie ai canestri di Tempone e Petillo, e ovviamente alla prestazione di un ben in casa, che in certi momenti è stato proprio protagonista sul parquet, anche con gli attacchi in transizione. Situazione che si è fatta ancora più delicata all'inizio del terzo quarto, con un estemporaneo meno 11, firmato dalla formazione allenata da Pisani, che poi ha subito un 11-0 di parziale, che ha di fatto riportato la partita in chiaro favore della diesel tecnica, che poi nel quarto periodo si è limitata a gestire il successo. Quarto successo consecutivo per i Biancazzurri, ora chiamati alla trasferta di Afragola per riconfermarsi nel gruppo delle seconde del girone alle spalle delle battistrada Basket Club Irpinia e pallacanestro Santa Maria Vico. L'Agropoli ha fatto una partita veramente al massimo, i ragazzi, una squadra giovane, si sono impegnati e in effetti ci hanno messo anche in difficoltà in alcuni frangenti, però poi, insomma, giocando con le rotazioni siamo riusciti poi ad avere la meglio. E' importante, insomma, gestire le rotazioni, soprattutto quando si gioca ogni tre giorni, quindi anche provare un po' i quintetti, mischiarli tra di loro, mettere in campo, insomma, quei giochi che magari a volte non si riescono a provare nelle normali partite, diciamo, li proviamo anche in questo tipo di campo. Una battuta, che cosa temi di più del pallacanestro Afragola? Ma come tutte le squadre napoletane sicuramente saranno toste difensivamente e fisicamente, quindi noi dobbiamo lavorare sulla difesa e sul taglia fuori al rimbalzo. Siamo partiti bene e siamo andati subito davanti nel punteggio. Sicuramente la squadra avversaria, composta da tanti ragazzi giovani, cedeva il passo anche a noi che siamo un po' più esperti e un po' più forti fisicamente in questo caso. Però sono stati bravi anche loro a non mollare mai e a tenere una buona intensità. Quindi abbiamo avuto un piccolo calo nel secondo quarto, poi ci siamo subito ripresi, ma alla fine è stata una partita abbastanza, diciamo, agevole, sia nel punteggio perché per quanto riguarda, diciamo, l'andamento stesso. È stata una grande prova di squadra, una grande prova corale. Sono ragazzi che si sbattono e si battono in difesa, non mollano mai, mettono sempre il cuore, l'orgoglio, oltre l'ostacolo possiamo dire. Onore alla squadra di casa perché ha disputato un'ottima partita. È normale che i ragazzi così, che si impegnano e sono protagonisti di due campionati, sia l'Under 18 che la Serie D, è difficile poi mantenere il ritmo alto per tutti e quattro i quarti. Quindi ancora complimenti a questi ragazzi.